Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo sul pacco dell'inizio Mio caro amico E poi ci sta violando tantissimo Scartalo Scartalo E se non è che ti sa adesso Cine Sì Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Deathmatch parkour Tantissimi sto a registrare ragazzi Siamo sempre con dei miei amici razzi Sto registrando dall'ultimo praticamente Deathmatch che ho visto Perché raga me ne devo anticipare Sto a fare gli esami uno dopo l'altro E Comunque Un po' difficile Tutti contro tutti siamo Ma siamo tutti contro tutti Pensavo che stavo una squadra Non ho visto niente E vabbè raga Purtroppo è così Io spero di arrivare subito raga Facciamo così così Facciamo più presto Devi cadere Ma chico devi cadere Oddio Oddio No raga Devi cadere dai Ti prego Ti prego cadi Non salta Non salta qua sopra raga Non salta Perché non mi sale Giusto raga Ma la stai paracodute Ti prego morire Ma la stai paracodute Ah vedi Eh raga ma non lo sapevo E' facile Devo dire la verità Solo perché L'anno mi è saltato Comunque anche se saltava Io morivo Perché Ero ovvio che mi buttava E mo salta Guarda raga Perché a me non lo fa Raga perché a me non salta Ah finalmente Perché prima non mi salta Questa è la cosa bella Vai Allora dobbiamo andare sopra E hop là Raga Buttiamoci No No raga Che figuraccia Colpite il bus distrutto Ragazzi Colpite il bus distrutto No Ma raga Potevo arrivare là io Che poi raga Stavo risalendo Un'altra volta Senta il paracodute Ma sono troppo Salendo Ragazzi Ah non mi ucciderà Mentre uccide Noi devo di qua Raga veramente Questa volta Non ho vinto il parkour Uccidetemi Non fa niente Pensate soldi che ricevete No Venuti a me ne fate Raga Uccidetemi Dai Roba sto Non c'è la miseria Non ti preoccupare E' un gioco E' un gioco Dute Cadono Persone dal cielo Bellissimo Ragazzi Comunque Meramente Bravo Ma che c***o Meramente bravo Per dire la verità Meramente E' bravo Meramente bravo Di parkour Si sta aspettando Sta vivendo Stavo aspettando Via 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 No Ti spreco ti spreco Ti spreco ti spreco Ti spreco ti spreco Non sparare Ti spreco Ok ragazzi ragazzi mi devo nascondere se mi metto qua mi vede giusto no ragazzi no ragazzi sto là ragazzi ragazzi lo sopevo, nascita oh lì, ragazzi sto sparando, sto sparando qua, oddio ragazzi sto sparando, oddio ti dico, oddio ragazzi sto sparando, no bravo bravo, non lascio tre con nessuno, ragazzi dopo ne faccio un'altra guardate anche il 20% di batteria scarica, si sta scaricando pure voglio i soldi, 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 eccolo qua, eccolo qua, boom, 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 no, ma ci sono il sito ragazzi sta qua, ragazzi sta qua, ragazzi spero che non si gira, spero che non si gira, non mi ha visto ragazzi e io ovviamente come un cretino gli piumbo addosso, io come un cretino gli piumbo pure addosso annaggia dai ragazzi un minuto ragazzi ragazzi poi l'ho preso il paracadute io io non l'ho preso il paracadute vabbè ragazzi almeno vorrei atterrare, no, non ce la faccio prendere il paracadute almeno cerchiamo di atterrare la raga la mia missione per dire e almeno oh no raga l'hanno ucciso no aspettate siamo errati quarti, purtroppo potevamo di puntare, potevamo cercare di puntare in terza però non ho voluto andare finita a vantorio volevo almeno fare il parkour vabbè ragazzi, intanto penso che durerà circa 3 minuti questo proviamo a rigiocarlo sperando questa volta un'altra volta di almeno prendere le armi vedremo un po' perché ragazzi eccoci qua ovviamente io ma il paracadute raga ho voluto mettere ragazzi per vincere 30 uccisioni prima erano 40 non ho visto 30 ragazzi perché il video non è che può dire più di 13-14 minuti beh poi non lo so se arriverà a 13-14 minuti ma non più di 15 questo è certo andiamo raga lo stiamo a fa tutto eh ragazzi non riuscire a farlo ragazzi non riuscire a farlo ragazzi non riuscire a farlo io mi butto da qua ma io sono l'unico cretino che va così c'era che la prossima volta vado come per cui mi consiglio eccoli la ragazzi stanno la chi è lui ehi c'era cioè ragazzi io ero un'altra volta ad un passo a prendere quelle armi ragazzi e non ci siamo riusciti io volo qua con un calcio non c'è me sto scaricando la batteria perché ragazzi sto registrando un video dopo l'altro allora ragazzi siamo attorta qua purtroppo ragazzi sta al 3% la mia batteria della fotocamera e quindi ragazzi ci dovremmo salutare intanto ragazzi un altro video lo rifarò perché lo voglio completare ragazzi a me nel parkour ci voglio arrivare almeno a prendere le armi perché ragazzi non voglio arrivare un parkour così sorpreso ringrazio come sempre ragazzi tutti quelli che hanno giocato compreso il primo ragazzi che comunque è il primo e sta vincendo quindi ragazzi ora che la batteria sta al 2% mettete tanti like condividete e mettete un like che già l'ho detto noi ragazzi ci sentiamo al prossimo video bella